La macroregione adriatico-ionica ha come opportunità di ampliare collegamenti, creare rapporti e regalare finalmente canali di rilievo alla regione Abruzzo. Lo scopo è ben noto da tempo e il lavoro è in atto da anni, ma ora sembra avvicinarsi una soluzione tangibile. Il risvolto principale è che finalmente il Parlamento europeo, su iniziativa nostra, del gruppo dei socialisti e democratici, ma anche grazie a una pressione fortissima fatta dalla regione, dal presidente Luciano D'Alfonso, che ha lavorato tantissimo su questo tema, ha approvato una risoluzione dove si chiede che la dorsale adriatica non si fermi in Ravenna, ma scenda giù per tutto il lato adriatico-ionico. È una novità importante perché noi avevamo il collegamento est-ovest, avevamo le due dorsali che scendevano al sud e questa sulla dorsale adriatica si fermava a metà. Adesso non ci sono più alibi e quindi deve intervenire il governo nazionale in un rapporto positivo con la Commissione europea. L'europarlamentare Paolucci poi annuncia una buona notizia per il caso delle trivellazioni sull'adriatico. A seguito di alcune sue interrogazioni si evince che per la regione Abruzzo non è ancora scontato il finale. Ci sono due direttive, una del 2013 e una del 2014 che ho invocato, una che riguarda lo sversamento degli idrocarburi e un altro che riguarda le autorizzazioni, su entrambe la Commissione europea dice che lo sblocco Italia vanno fatte delle verifiche. Quindi non è nulla per scontato, in particolare per quello che riguarda la direttiva del 2014 che attiene al fatto che tu per autorizzare un impianto ci vuole un ruolo dell'istituzione pubblica che nel caso di specie non c'è stato e ci vuole una valutazione con gli altri paesi che potrebbero avere dei danni e neanche questo c'è stato. Quindi è una partita anche dal punto di vista formale, giuridico, aperta e io continuo a rompere le scatole.